Musica Buongiorno da Telebari e un saluto anche a chi ci segue in diretta su Radio Bari. Il Comune si adegua alle direttive della Regione, così l'assessore all'urbanistica Elio Sanicandro ha respinto al mittente l'accusa dell'opposizione in tema di housing sociale. Il punto in questa intervista è la vigilia dell'approdo in Consiglio Comunale della relativa delibera. Mirko Caffaro Sono arrivate due offerte ma non le abbiamo aperte perché noi abbiamo predisposto un atto amministrativo in cui stabiliamo sia gli ambiti di intervento rispetto alla legge regionale 12 sull'housing sociale sia i criteri per la verifica e la pre-istruttoria di questi documenti. E quindi siccome la Regione ha prorogato i termini al 2 dicembre abbiamo ritenuto fosse importante stabilire i criteri per poter eventualmente esaminare queste pratiche, queste richieste che sono pervenute. Veniamo alle polemiche di questi giorni. L'opposizione ha parlato del rischio, del pericolo che vengano avvantaggiati i costruttori soliti noti che parole loro sono stati definiti palazzinari. La consigliera Maugieri ha parlato di un progetto interessante ma rischioso nelle mani dei costruttori. Lei come risponde? Noi stiamo rispondendo a una legge regionale che tra l'altro fa riferimento a una legge nazionale di promozione dell'housing sociale e a un bando che la Regione ha fatto. Noi stiamo semplicemente dando dei criteri o delle modalità perché se arrivano, pervengono delle richieste diciamo si possano esaminare ma non è un'iniziativa del Comune di Bari. Voglio precisare che noi stiamo cercando di dare un'organicità a un indirizzo e a un vero e proprio bando che è stato fatto dalla Regione Puglia. A proposito di tariffe, quale sarà la percentuale di abitazioni che saranno restituite al Comune e i prezzi per le altre, il fitto e la vendita? È stata già definita una quota? No, siamo ancora in una fase assolutamente iniziale. Queste cose sono indicate dalla legge 12 o dalla legge 21 ma in questa fase si richiedono, se perverranno, semplicemente dalle manifestazioni di interesse. Il Welfare Politiche per i minori fuori famiglia si è parlato questa mattina nel corso di un incontro nella sala consigliare della Regione Puglia dal titolo Verso il secondo piano di azione Famiglie al futuro. L'appuntamento è stato anche l'occasione per presentare il volume Dinamiche e Welfare Pugliese, un'opera di raccolta dei principali interventi prodotti dalle politiche del welfare negli ultimi tre anni caratterizzati dall'investimento di 228 milioni di euro. Arriva a Bari Italia Creativa Festival dal 25 al 27 novembre, un cartellone con oltre 20 appuntamenti all'insegna della creatività e dell'arte contemporanea. La manifestazione a cui parteciperanno più di 80 tra artisti ed esperti di settore rientra in Italia Creativa, progetto per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana, cura del Dipartimento della Gioventù e Presidenta del Consiglio dei Ministri. Il festival è stato presentato questa mattina dal Presidente Regione Puglia, Nicchi Vendola e dall'assessore regionale al Mediterraneo Silvia Godelli. E una lettera di minacce nei confronti del Presidente del PD, Rosi Bindi, e del Presidente del Copasir, Massimo D'Alema, è stata recapitata questa mattina per posta nella sede di Bari nell'Agenzia Anza. La lettera, contenuta in una busta rettangolare affrancata, è scritta a mano e a caratteri stampatello su un mezzo foglio bianco. La scritta dice Rosi Bindi e D'Alema ne hanno per poco ed è firmata da sedicenti nuclei rossi armati. Poco più di un mese fa, il 13 ottobre scorso, un'altra lettera minatoria era stata recapitata a Lanza di Bari con minacce nei confronti del Segretario nazionale del PD, Pierluigi Bersani. In chiesta a Gibanza sono iniziate le audizioni e le ispezioni da parte del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, intanto continuano ad emergere particolari dagli atti al vaglio degli investigatori che proseguono nell'attività volta a far luce sul sistema di pilotaggio delle sentenze tributarie. Dalle ultime intercettazioni sarebbe emerso lo scarso gradimento da parte dei funzionari dell'Agenzia delle entrate nei confronti dell'attività dei finanzieri. E i carabinieri festeggiano la Virgo Fidelis. Questa mattina nella cattedrale di Bari è stata ufficiata una messa dall'arcivescovo di Bari Bitontomo, signor Francesco Cacucci, per celebrare la ricorrenza della festa della patrona dell'arma dei carabinieri alla presenza dell'autorità civile militare. Un culto nato dopo l'ultimo conflitto mondiale, domani invece sarà celebrata la giornata dell'orfano dedicata ai figli dei carabinieri caduti. Il presidente della Sampdoria Riccardo Garrone lancia anche a Bari il progetto multiculturale Muse. Sentiamo Maria Alessandra Bellomo. Dove non arriva il calcio e l'affetto dei tifosi è riuscita la solidarietà. I nomi di Antonio Cassano e del presidente della Sampdoria Riccardo Garrone di nuovo insieme per il progetto multiculturale europeo Muse di cui Garrone è presidente nazionale. Obiettivo contrastare nelle scuole attraverso esperienze artistiche l'emarginazione e il disagio sociale promuovendo il rispetto di ogni cultura fra i bambini. Il risultato hanno beneficiato del progetto 15.000 bambini. Il progetto è rivolto ai bambini, diciamo alle scuole, alle classi dove c'è un'alta presenza di bambini immigrati. Evidentemente a beneficiarne sono anche i nostri bambini. in Sicilia, dove siamo già presenti in tre città, a Napoli, evidentemente è ugualmente efficace il progetto perché ci sono aree delle città, zone delle città dove il disagio socio-culturale e anche economico è elevatissimo. Promotore del progetto anche il presidente della Confindustria Pugliese, Piero Montinari, che tenterà di coinvolgere la città di Lecce. Parte da Bari perché a Bari c'era un impegno, una generosità di Antonio Cassano che si è appassionato e quindi ha cominciato lui a finanziare questo progetto e la Fondazione Muse che è presente in 27 città d'Italia sta cercando di adagare il proprio impegno e grazie anche alla relazione e alla capacità di coinvolgimento che riusciremo ad avere cercheremo di aumentare il numero delle sedi. Torna a Sentieri del Cinema, la 19esima edizione del Festival che quest'anno è dedicata alla memoria di Italo Calvino. Questa mattina la presentazione per noi c'era Mirko Cafaro. Si ispirerà alle suggestioni cinematografiche di cui è permeata l'opera letterare di Italo Calvino la 19esima edizione del Festival Sentieri nel Cinema al Via dal prossimo 29 novembre. Il titolo è tutto un programma destini incrociati liberamente ispirato al romanzo Il Castello dei Destini Incrociati proprio di Italo Calvino del quale quest'anno ricorre il 25ennale dalla morte. Una rassegna della durata di 10 giorni in programma ogni martedì e giovedì al Cinema Armenise di Bari è che prevede tre proiezioni giornaliere dei migliori film degli ultimi 30 anni con particolare attenzione anche alla sezione video composta da corto e lungometraggi dei artisti emergenti e non oltre a interviste e servizi di approfondimento come ha spiegato ai nostri microfoni il direttore della rassegna Mario Fiorentino. La costruzione delle opere di Calvino si basa sempre su immagini, sulla suggestione, sulle immagini fantastiche che riescono a dare un senso a una storia. In pratica Calvino costruisce una macchina narrativa che è molto simile a quella utilizzata nel cinema. Noi in particolare ci siamo ispirati al Castello dei Destini Incrociati che è una delle sue opere più note in cui appunto un gruppo di viantanti avendo perso la voce per cause misteriose si esprime, racconta la propria storia attraverso l'utilizzo di carte dei tarocchi. A margine della presentazione della rassegna di questa mattina da segnalare lo sfogo dell'assessore regionale alla cultura Silvia Godelli che in conferenza soffermandosi sul tema dei tagli governativi ha parlato di tentato omicidio alla cultura proprio nel giorno della mobilitazione generale dei lavoratori dello spettacolo.